ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco o la mimpi a cosa serve o la mimpi a un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo è commercializzato in italia dall'azienda delta bkb srl informazioni commerciali titolare delta bkb srl concessionario delta bkb srl categoria di appartenenza shampoo confezioni o la mimpi shampoo ph 5,5 150 ml indicazioni shampoo trattante a specificazione antiforforo e a largo spettro pia pirocotone olaminamin 1 per cento ph 5,5 fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato